buona giornata e soprattutto buon giovedì santo cari amici bene stiamo entrando sempre più nel cuore della settimana santa che ci porterà poi tra sabato e domenica appunto alla risorgimento alla morte alla risurrezione del signore nostro gesù cristo per questo vi invito a seguire i numerosi eventi posti in tv dalle varie emittenti per esempio tv 2000 o teleradio padrebio quindi oltre anche al rinnovamento nello spirito santo e ricordo che oggi proprio sulla pagina ufficiale facebook del rinnovamento nello spirito santo ci sarà una adorazione molto particolare a partire dalle ore 12 in punto la possiamo seguire tutti quanti in diretta su facebook per il resto almeno personalmente tutto bene ovviamente cerco come al solito di limitare le oscite magari tranne se devo dare una mano a lavoro a mio padre o se devo fare qualche piccolo servizio fuori casa diciamo a breve distanza da casa mia per quanto riguarda passando un attimo la wwe nella puntata della notte passata di nxt yoshirai ha vinto il ladder match e sarà la prossima sfidante di charlotte flair mentre johnny gargano abbattuto tommaso ciampa anche direi grazie soprattutto all'aiuto di sua moglie nella vita reale tendisci la re avevo letto che mandy ross e odys dovevano fare un annuncio speciale nella mezzanotte americana quindi però non so al momento cosa hanno annunciato chissà forse un loro fidanzamento ufficiale nella vita reale speriamo a questo punto quindi viviamo con tanto fervore tanta passione appunto questa pasqua risurrezione 2020 molto particolare visto che comunque purtroppo le celebrazioni sono a porte chiuse poi vabbè la stragrande maggioranza delle parrocchie il papa stesso attraverso i mass media televisione social network c'è sempre modo in questo caso la tecnologia ci aiuta per diffondere il vangelo di gesù la parola del signore quindi viviamo appunto questi da oggi fino a domenica una pasqua molto speciale anche se in contemporanea ad un periodo molto difficile per il mondo con la pandemia epidemia corovi 19 coronavirus per il resto prima di chiudere la diretta vi ricordo i miei canali dove mi potete trovare youtube in nicola delucia facebook nicola delucia la paginetta ufficiale dove sto trasmettendo proprio ora deluxe television su instagram nick deluc 94 tutto attaccato con 2c e no con 2k su twitter nicola delucia bene grazie a tutti io vi auguro buon giovedì santo buona giornata e ovviamente non perdiamoci di contatto e soprattutto seguiamo i tanti eventi che se il vaticano che il rinnovamento che la chiesa ci offre in questo periodo bene buon proseguimento di giornata e ci becchiamo quando prima ciao